Musica Wey, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video Io sono Xyuder e ragazzi oggi abbiamo veramente delle news incredibili Che riguardano Fortnite ma che riguardano anche il gioco del momento Quello che stiamo anche un po' provando su Twitch Parlo ovviamente di Fall Guys Veramente cose incredibili che fanno capire quanto ci possono essere delle collaborazioni istantanee Quando dei titoli hanno successo Prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop Con il mio codice creator Xyuderone Grazie mille ragazzi per il vostro sostegno Mi raccomando non dimenticate di iscrivervi ai miei canali e soprattutto Di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica con i miei video news E ora andiamo direttamente a parlare del primo argomento di oggi Ed è un'immagine che sta veramente spopolando Per quanto riguarda i forum su Reddit Ed è una collaborazione in concept ovviamente di Oreo X Fortnite Ragazzi la trovo veramente meravigliosa Sarebbe uno stile extra per la Pili Per la banana ragazzi che qua è vista come una bottiglia di latte Ma davvero meraviglioso il piccone ragazzi che lo vediamo trasformato In una mega cannuccia giga che già me l'ha immagino imbracciata Con grande prepotenza Hanno avuto veramente tantissimo da dire e quindi Ma magari Epic Games Fortnite lo vedrà Io devo veramente Dovevo farvela vedere perché è veramente Meravigliosa E andiamo avanti a parlare del prossimo Argomento di oggi perché invece Ci sono dei tweet ufficiali Direttamente dalla pagina Di Fall Guys Che ragazzi per chi non lo conoscesse È il videogioco del momento Ne stanno parlando tutti Io stesso lo sto giocando in live su Twitch Tantissimi streamer lo stanno provando Si ne parla anche nel campo degli sport Se ne è parlato anche per il Twitch Rivals Parliamo ragazzi di un Battle Royale Un po' più diverso da come siamo abituati Si parte in 60 E mano a mano si finiscono dei livelli coloratissimi Bellissimi e anche molto intuitivi Che faranno solamente un vincitore Prima in 60 Poi potrete essere in 40 Poi in 20 Poi in 10 E poi si va a fare la finale Il gioco purtroppo Per gli utenti di PC non è gratis Costa 20 euro Lo trovate su Steam Ma provate a dare un'occhiata anche A Instant Gaming CD Case Quei posti lì che vendono i giochi Ovviamente tutto legit ci mancherebbe Magari si trova a meno E ha ottenuto 23 milioni di ore guardate Su Twitch ragazzi Distruggendo qualsiasi primato Che si era conosciuto fino ad adesso E quindi qualcuno gli chiede Ma scusate perché non fate una collaborazione Con Fortnite If all guys twitta Operatore Operatore Give me the number of teams with Epic Che è il CEO di Epic Games And also Fortnite Game We have some business to talk Abbiamo un po' di business di cui parlare Anche perché facciamo un attimo due conti Il gioco costava 19,99 Per gli utenti da PC E' vero Se hai PS Plus Puoi scaricarlo gratuitamente Nel Play Store Fino al primo agosto Ma hanno fatto 2 milioni di download da Steam Vuol dire 40 milioni di dollari di incassi Credo che Fortnite potrebbe un attimino pensarci Come vedete Questo è solamente un concept Quindi una meravigliosa skin Dell'Ama Con una skin del Cuddle Team Leader Dell'orsacchiotto rosa Ma guardate questa Sbamma Qua cominciamo Qua cominciamo ragazzi A parlare di cose un pochettino più serie Devo dire che Fortnite io ce l'ho nel cuore ragazzi Io non posso Infatti tutte le mattine Dalle 8 alle 9 e mezza In questi giorni Sto comunque giocando a Fortnite Perché mi piace tantissimo Ma questo Stacco un attimino dalla continuità Con Fall Guys Ci voleva Perché ridà un bel po' di ossigeno E ci sta un sacco ragazzi Io so che magari molti non lo capiscono Perché guardano E non streamano Ma vi garantisco Che è tanta roba E se poi ci mettiamo il fatto Che potrebbero esserci Delle collaborazioni Beh cavolo Guardate qua che meraviglia La skin dell'elfo In versione minty E in versione normale Ma arrivano anche Vagonate di concept Fall Guys X KFC E qua addirittura Con Monster ragazzi E Monster stessa La pagina Parla dicendo The Fall Guys Game Lobby Music But for 24 hours straight Perché la musica è veramente Molto molto orecchiabile Arriva un altro concept Della lattina Oppure arriva Fall Guys con Shrek Fall Guys con Undertale Fall Guys con Apex Legends Insomma ragazzi Le possibilità sono infinite Nella sua semplicità Potrebbe veramente Generare Una boccata ad ossigeno Per tutti Gli streamer Per tutti i giocatori E andiamo avanti A parlare di un altro Argomento Perché questo ve l'avevo già parlato Andiamo avanti Ci sono delle modifiche Molto interessanti Che i partner Di Twitch O gli streamer Gli affiliati dovrebbero ricevere Oggi nella propria mail Verrà fatta una modifica E l'Amazon Prime Quindi il Prime Su Twitch Verrà convertito In Prime Gaming Non è ancora chiarissimo Che cosa comporterà Per noi O per voi Questa modifica Però loro dicono According to email Ve la traduco direttamente Leggendo una mail Da Twitch Ai partner Che ho ricevuto Twitch Prime Verrà rebrandizzato In Prime Gaming Che offrirà Quindi Molte Molte Più Opportunità Per Crescere Agli streamer Arriverà comunque In italiano A tutti Una mail Ci sono tanti benefit Ci sono tante cose Non dovrebbe cambiare La meccanica Cioè Se avete un account Amazon Prime Dovreste poter fare Il Prime Gaming Appena saprò qualcosa di più Lo saprete anche voi Andiamo avanti a parlare Del prossimo Argomento di oggi Perché su Fortnite Esce La modalità Fishing Fancy Che purtroppo Non porta Niente Di nuovo Quindi Non arrivano I pesci Quelli che stiamo Aspettando Che a questo punto Vedremo sicuramente Nella season 4 Quindi Nella stagione 14 Se volessimo essere Precisi Ne arriveranno Una vagonata E ne abbiamo già parlato Perché potremmo Pescarli in determinate ore Del giorno In determinati posti E avranno ovviamente Diversi effetti Quindi Incrociamo le dita Anche perché Vi ricordo che la season Termina il 26 agosto Non ci sono delay E quindi Non vedo l'ora Di vedere Che cavolo inseriranno Nella season 4 Tra l'altro Arrivano finalmente Le prime immagini Ad alta definizione Del comic book Quindi Quel libro Che come vedete In basso A destra Apparirà Nella lobby Ne abbiamo parlato Già da un paio Di giorni Ma per fortuna Ecco qua ragazzi Una fantastica Immagine Come vedete La parte sotto È Thor La parte sopra È Galactus Che è l'antagonista In questo caso E poi notiamo Anche ad esempio Il rainbow Che dovrebbe essere Il ponte di collegamento Appunto Dal regno Di Thor Con la terra E tante altre Vignette Molto interessanti La cosa che ancora Non abbiamo capito È Sarà Un evento Di transizione Dalla season 3 Alla season 4 O sarà semplicemente Una side Storyline Che a questo punto Arriverà Direttamente Nella prossima season Sinceramente Non lo sappiamo Perché Non si è parlato Ancora Di evento Io l'ho detto ragazzi L'inserimento Dei veicoli In gioco In questo momento La rimozione Ad esempio Delle daily cap Perché le hanno tolte Con anticipo Hanno creato Secondo me Un pochettino Di disorientamento Per quanto riguarda Il focus generale Sulla storyline Di fortnite E sul possibile Passaggio In maniera corretta Dalla season 3 Alla season 4 Quindi dobbiamo Aspettare Cercare di capire Sappiamo solamente Che arriveranno Dei rift In game Quindi Si potrebbe ipotizzare Che la season Sarà a tema spaziale Ma in realtà Non abbiamo Nessuna informazione Ufficiale E prima di salutarvi Volevo due secondi Farvi vedere Il pack Che arriverà Per i giocatori Di salva al mondo Il nuovo pack Samurai Che andrà A sostituire Il mecha team leader Voglio farvi vedere Uno spezzone Di gameplay Eccolo qua ragazzi Come vedete Un samurai Che è preso Da una skin Che già È presente In game Ovviamente Leggermente Risistemata Io parlo Di muscia Visto così Lui È un pochettino Più clean Diciamo Da vedere Non ho ben capito Perché abbia Un cartello Di stop Davanti È molto Molto carino Vi ricordo Che questo pack Ancora Non si sa Se avrà La possibilità Di ottenere Un migliaio di V-Bucks Come è successo Per il mecha team leader Ma sappiamo Che gli eroi Saranno due Sempre per salva al mondo Un eroe mitico E poi anche In variante Leggendaria Insomma ragazzi Io anche oggi Tutte le news Ve le ho dette Vi ringrazio tantissimo Per avere guardato Questo video Mi raccomando Non dimenticate Di iscrivervi Ai miei canali Lasciate un bel pollicione In su E a me mi trovate Proprio adesso In live su Twitch Ciao Ciao